Chi lo fa? 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 A volte è un po' per sfortuna, o perché scart scart e beh, fornendo scart, arrivi a fare una certa età e rimane tu sola. A Napoli, alla donna che gli succede questo, viene chiamata Abzoog. Abzoog ovviamente è se vuoi si stimare, e in un uomo cerca una sola caratteristica. O POSTO! Eh sì, è l'uomo che sta o in dei carabinieri, o in della poluzia, o in dell'esercito, o in della finanza, o in qualsiasi altro posto pubblico. L'importante è che hai una busta paga, e che si mangia il pane al governo. Pure i mamma e i bazzotti che insufflano, ci dicono, oee, tu mi sei portato a cocco di svelenze, cocco disoccupato, mi hai portato a cocco con il posto. Era l'allendatore. Ooooooooooooooooost. Pure celentano, scrivete una canzone che faceva così... Chi non lavora... NON FA LAVOR Secondo me, è tappanzato a pochi bazzotti che prima di scrivere questa canzone. Comunque, cari bazzotti, faccio un appello, ci stanno tanti raggiungi i miei zavigli, che cercano l'amore. Non pensate solo a questi interessi, pure perchè è opposta. Ma questa crisi sta posta a noi Ma chi c'era? E poi no Sto pane del governo Che fa pure ingrassare i carboidrati Ma facete pure i piatti Detto questo Un abbraccione forte E arrivederci Chi non lavora Non fa l'amore